Ogni tanto mi capita sotto mano una piattaforma diversa, un broker diverso, un exchange diverso e mi piace parlarne nel canale. Non avviene spesso, mentre voi spesso mi chiedete quale broker uso, cosa faccio. Ragazzi, io ne uso veramente tanti e soprattutto sperimento tantissimo. Ma per quanto riguarda l'ambito Bitcoin e criptovalute, ragazzi, c'è tanto da smanettare e soprattutto alcuni exchange, alcune piattaforme non sono di livello. Oggi parliamo di una piattaforma che invece nell'ultima settimana mi ha colpito molto per un motivo principale che vi dirò tra pochissimo appena iniziamo il video e ho voluto spulciare questa piattaforma, ho voluto vedere effettivamente se ne valeva la pena parlarne nel canale e così è stato. Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video. Oggi parliamo della piattaforma di trading PrimeXBT che ci permette, ragazzi, di fare trading con i nostri Bitcoin sui mercati Hold, quindi sugli indici di borsa e le commodity. Questo è veramente il grande plus di questa piattaforma perché poi alla fine ci sono tantissime piattaforme, alcune hanno delle commissioni un po' più basse, alcune più alte, quelle che hanno più basse magari funzionano un po' peggio, hanno dei pro, dei contro. Insomma, ragazzi, in linea di massima, quella che ci piace di più, che ha l'interfaccia migliore, poi è quella che andiamo a utilizzare. Però, nell'ambito Bitcoin, poter utilizzare i nostri Bitcoin, quelli che abbiamo, che deteniamo, che non vogliamo vendere, per poter fare trading e quindi poterli investire, ragazzi, è una cosa che mancava nel mercato. Siamo sempre nell'ambito delle criptovalute, quindi nel video di oggi faremo una serie di considerazioni importantissime, quindi vi chiedo, ragazzi, di arrivare anche alla fine di questo video per sentire tutto quello che ho da dire e anche il perché ho utilizzato questa piattaforma per 2-3 settimane e ho deciso di fare una recensione qui sul canale. Ma prima di andare a vedere la piattaforma, ragazzi, vi chiedo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e lasciatemi un pollicione, questo sarà una super video review, quindi voglio sapere cosa ne pensate alla fine perché è importantissimo, soprattutto in questo caso, il nostro confronto, scrivetemelo nei commenti. Vi dico anche un'altra cosa, se volete registrarvi io vi lascio il mio link con il referral, mi date una mano, come sempre sul canale, ma quello che è importante è che vi dico anche che c'è un bonus, ci sono due bonus che mi hanno dato, ragazzi, uno vi consente di avere uno sconto del 25% sulle fee, l'altro invece vi dà un bonus sul capitale del 35%, bonus che però, ragazzi, non potete utilizzare per prelevare, sarebbe troppo bello in quel caso, ma potete utilizzarlo per fare una serie di operazioni. Nel caso specifico io prediligo la sconto sulle fee, quindi se dovessi darvi un consiglio vi direi di usare quel bonus. Nella descrizione vi lascio questo link, ragazzi, se lo volete utilizzare, mi date anche una mano. Spostiamoci però adesso a vedere, posso dire spostiamoci, spostiamoci sui grafici, tanto grafici sono. Plus, il primo, il più importante di una piattaforma del genere, poter utilizzare Bitcoin per investimenti sui mercati, old, comprare Nasdaq, comprare S&P 500, anche le commodity, manca il gold però ancora non c'è, e a fare anche un po' di forex. Che Bitcoin, oltre ad essere un investimento in sé, proprio se stesso è un investimento. Noi quando andiamo a comprare Bitcoin facciamo un investimento sul fatto che possa aumentare di prezzo nei confronti dell'euro o del dollaro. Però Bitcoin è anche una valuta. Ragazzi, quindi noi nel momento in cui possiamo tenerlo in old e fare il nostro investimento, sperando che salga nei prossimi mesi, possiamo anche utilizzarlo però nel frattempo per aumentare il suo valore, quindi aumentare il numero di Bitcoin, portare da un Bitcoin, per esempio, a due Bitcoin. Quindi questo lo possiamo fare utilizzandolo per fare trading. Finora abbiamo fatto questa cosa utilizzando Bitcoin per fare trading contro le altcoin. Ragazzi, però, contro le altcoin sappiamo anche che non c'è molta diversificazione, non c'è molta differenza nell'andare a fare un investimento, perché se Bitcoin va giù, le altcoin vanno giù di più, se Bitcoin sale, le altcoin alcune seguono, altre no. In summa, ragazzi, è lo stesso mercato, non stiamo diversificando veramente. Andando invece ad agire su mercati completamente diversi, come il Nasdaq, come l'S&P 500, facciamo una diversificazione della nostra attività di trading. E quindi questo è un plus vero, proprio molto importante, ed è per questo che mi è piaciuto questa piattaforma. Ragazzi, allora vi porto subito sulla piattaforma e vi faccio vedere quella che è la schermata principale. Allora, abbiamo una serie di strumenti che è possibile utilizzare su PrimeXBT. Qui abbiamo intanto le crypto, che sono le crypto principali. Per quanto riguarda il Forex, invece, ragazzi, abbiamo una serie di strumenti di coppie di valute. Vedete, ce ne sono veramente tante. Andiamo però a quello che ritengo il plus vero, ragazzi, ICFD. Su ICFD ci sono una serie di strumenti che mi interessano tantissimo, come il Brent, il crude oil, il Dow Jones, l'Eurostoxx 50, France sarebbe il CAC 40, quindi l'indice francese. Insomma, sono tutti gli indici di borsa. I più importanti, quelli che io uso e strauso nel mio trading quotidiano con Interactive Brokers utilizzando euro e dollari, sono Nasdaq ed S&P 500. Ragazzi, c'è anche la Spagna, ma non c'è l'Italia. Vabbè, allora, intanto io ho utilizzato sia Nasdaq che S&P 500 nelle scorse settimane e ho fatto dei trade con una strategia, ragazzi, utilizzando delle strategie ad hoc per questo tipo di piattaforma e ho performato tantissimo, ho fatto più del 25% di rendimento in due giorni su questi strumenti ed ho fatto anche un webinar, ragazzi, dove ho spiegato come sono riuscito a fare questa strategia. Per tutti questi approfondimenti, nella descrizione vi lascio il link al mio canale Telegram. Nel canale Telegram trovate questo webinar, è gratuito per tutti, andatevelo a vedere un'ora di lezione e lì spulciamo tutte quelle che sono state le caratteristiche operative di questa strategia e vi faccio vedere anche come si opera un po'. Poi parliamo dei pro e contro della piattaforma. Allora, io l'ho utilizzata per una decina di giorni, ma adesso vi dico anche una chicca che abbiamo fatto con tutto il team Trading On. Questa piattaforma è estremamente veloce, estremamente personalizzabile, non ho notato particolari rallentamenti, è una piattaforma abbastanza veloce ed è anche personalizzabile, perché per esempio qui potete andare a cliccare aggiungi widget e mettere quello che un po' volete. Io qui per esempio ho creato un widget che fa un solo grafico, qui ho creato un widget che fa un grafico più le posizioni e il posso cambiare, per esempio il grafico in simultaneo, vedete perché l'ho linkato, poi possiamo anche aumentare, diminuire le finestre, insomma ragazzi è molto personalizzabile. Qui abbiamo una serie di indicatori che possiamo anche utilizzare, gli standard, però ragazzi sono meno macchinosi di alcune piattaforme cripto che le reputo un pochettino macchinose, qui è abbastanza semplice, anche l'immissione degli ordini è molto veloce, la spiego nel webinar, quindi andatevela a vedere. Semplice, veloce e intuitiva, però c'è anche un contro, cioè ha quelle opzioni, tutte quelle cose ragazzi che sono basilari, ma oltre non va. Questo è un po' un trade-off perché nel momento in cui io necessito di una piattaforma semplice mi devo anche accontentare poi di non poter fare elaborazioni esagerate ragazzi, e qui è esattamente così. È vero che posso inserire una serie di indicatori sui grafici, però vi faccio un esempio, io non ho trovato il modo di ingrandire il grafico, non so se esisterà, ma lo scriverò magari anche al team, però non ho trovato il modo di rendere un grafico, per esempio quelli che utilizzo qui nel mio tool a quattro grafici, se io volessi ingrandirne uno non l'ho trovato il modus, magari ci sarà ragazzi, non lo so, però al momento non l'ho visto. Andiamo alle commissioni, allora commissioni e le fee secondo me è un plus di PrimeXBT. Andiamo delle fee, vedete, sulle cryptocurrency, quindi sulle cryptovalute di 0,05%, sono più basse di quelle di Binance, poi abbiamo il Forex, il Forex è nella media ragazzi, ma quello che mi interessava sono queste. 0,01% è nella media un'ottima trading fee, che c'è anche lo spread denaro lettera, lo spread bid and dusk, è un'altra commissione, ma è bassa ragazzi, è più bassa di quella dei CFD, ed è soprattutto legata anche al momento di mercato, quando magari nel momento è estremamente volatile, magari si allarga un po', però ragazzi io l'ho trovata veramente bassa, a volte addirittura su Nasdaq e S&P 500 arrivava a mezzo punto, quello che invece va tenuto in considerazione, che cambia radicalmente l'operatività, che secondo me è valida su una piattaforma di questo tipo, e il Lover Night Financing, vi fanno pagare la leva, in parole povere ve lo dico in maniera molto semplice, vi fanno pagare il funding, se andiamo in leva su S&P 500, noi dobbiamo pagare ogni giorno lo 0,029% alla piattaforma, quindi se la teniamo 10 giorni ragazzi, andiamo a pagare lo 0,3%, altro da dire sulla piattaforma, ci sono un sacco di altre cose da dire, che mi sono piaciute, per esempio l'app mobile, anche lì semplice ragazzi è veloce, ci sono poi vi faccio vedere le opzioni turbo, che sono mi sembra ancora in prova, ragazzi queste sono opzioni binarie, sconsiglio ovviamente di utilizzare, se qualcuno di voi vuole fare, la famosa scommessa sulla vittoria, il covesting invece ragazzi me l'hanno abilitato, e la possibilità di seguire dei trader, che possono fare anche dei portafogli, di creare un loro fondo, è ancora in beta, quindi ci sono poche persone in questo momento, però si può seguire quello che fanno anche queste persone, c'è invece una cosa carinissima, che è un bot telegram, che si può attivare sul conto, e vi fa seguire quello che avete in portafoglio, come stanno andando le posizioni, vi fa guardare da telegram questa cosa, andiamo al nocciolo della situazione, di questi tipi di servizi, ragazzi, in lato sicurezza, quando andiamo a mettere su bitcoin, su un exchange o un broker, dove ci possono depositare bitcoin, senza il KYC, e in questo caso non c'è, dobbiamo starci attenti, perché? Perché non sappiamo che fine fanno questi bitcoin, perché perdiamo il fatto di detenerli con le chiavi private, ed essere esclusivi possessori dei nostri bitcoin, ma questo ragazzi, è una cosa che dobbiamo mettere in conto, quando facciamo qualsiasi servizio del mercato cripto, è inutile che lo ripetiamo, perché nessuno di noi sa, se un broker o un exchange durerà 100 anni, quando noi operiamo nell'ambito dei mercati cripto, dobbiamo sempre tener conto di questi tipi di rischi, ma non ci siamo accontentati di questa cosa, quindi cosa ho fatto? Io sono andato un po' a spulciare, tutti quelli che sono le caratteristiche dell'exchange, abbiamo guardato dove risiede, dove non risiede, sono i soliti paesi ragazzi, è molto simile a BitMEX, e poi quello che ci ha interessato di più, è andare sul campo a chiedere a chi la utilizzava già da un po' di tempo, ci hanno confermato quello che effettivamente pensavamo, che la piattaforma è estremamente veloce, molto intuitiva da utilizzare, soprattutto non fa molti lockdown, cioè nel momento in cui accelerano i mercati, ci sono i momenti concitati, non capita spesso che la piattaforma si spegne, alcune volte sì, ma non in maniera differente rispetto a quello che succede su BitMEX, su Binance, su Bitfinex, che a volte chiudono perché devono fare manutenzione. I trader che lo utilizzano già da quasi un anno, ci hanno confermato che l'operatività, per esempio anche sui margini, è corretta, e anche sugli spread utilizzati è corretta, non ci sono trucchetti, diciamo, strani, che sono usciti fuori. Abbiamo visto anche tutti quelli che sono i messaggi di Twitter della piattaforma in inglese, chiaramente, ragazzi, quindi siamo andati a spulciare il più possibile per quello che possiamo fare noi come team di Trading On, ragazzi, in conclusione su questo punto, che poi è un nodo importante per tantissimi di voi, lo so benissimo, bisogna sempre considerare che siamo lato criptovalute, ragazzi, quando mettiamo mana ai nostri Bitcoin e li spostiamo, dobbiamo mettere lì quello che siamo disposti a perdere per fare un investimento e magari cercare, insomma, di essere proficui in questo. In questo, però, ragazzi, è un discorso che possiamo fare su PrimeXBT, e che sto facendo io, ovviamente, è utilizzare la leva. In questo momento mi state sentendo dire che la leva va bene. Perché, ragazzi? Perché se io detengo 10 Bitcoin, vi ho visto, se io detengo 10 Bitcoin, e non voglio metterli tutti su un exchange perché perdo le chiavi private e quant'altro, posso fare una cosa utile, ne metto un pezzettino e uso la leva, ragazzi, è la stessa cosa, perché non la pagate di più la leva, quindi vi costa uguale di mettere 10 Bitcoin o usare la leva, vi costa la stessa cosa, quindi mettetene un pezzettino piccolino e usate la leva, così investite come se avete messo lì tutti i Bitcoin. Ovviamente, ragazzi, sapete che la leva va usata nella misura di mani, massimo 4-5, non fate cose strane perché, ovviamente poi il margine se ne va, però c'è anche da considerare che gli indici come Nasdaq e Standard Repulse 500 non hanno tutta questa volatilità. Se adattiamo il nostro livello di leva finanziaria a un mercato come Nasdaq e S&P 500, possiamo stare anche un po' più tranquilli, che non farà le variazioni di Bitcoin, che magari vi fa il meno 30, più 30 in 20 minuti. Bene, ragazzi, concludo la mia recensione, vi faccio il recap di questi quattro punti che ho trovato interessanti per Prime XBT. Punto principale, utilizzare i Bitcoin che deteniamo in hold e non vogliamo cambiare in euro dollari per fare il nostro trading. Questo è il plus, vero. 2. La leva che mi consente di non mettere su tutti i miei Bitcoin, ma solo un pezzettino, poi ovviamente dovete essere skillati nell'uso della leva, altrimenti fate solo danni, quindi mi raccomando, non sono consigli finanziari e il trading è strarischioso, ragazzi, questo ormai lo sapete. 3. Mi permette di diversificare su differenti strumenti, perché ho le commodity e ho anche gli indici. 4. Il fatto di ottenere gli stessi profitti in Bitcoin ci dà una marcia in più quando, e se, ci sarà una nuova burranno di Bitcoin. Detto questo, io ragazzi vi lascio il mio link per registrarvi, ci sono due bonus, due codici sconto che vi lascio e in questi due codici sconto io vi consiglio di utilizzare quello sul sconto delle FII, almeno 25% di FII, ragazzi. Poi le FII tra l'altro sono anche cumulabili, quindi ci saranno altri sconti, però ho deciso di fare un'altra cosa, cioè farò dei webinar di approfondimento di questa piattaforma per farvi vedere come mi trovo io, che cosa sto facendo nel corso del tempo. Fatemi sapere ovviamente anche cosa ne pensate nei commenti e noi ci rivediamo nel prossimo video. Ciao a tutti!